Il fiber art nasce nella prima parte dell'avanguardia, ma soprattutto negli anni 60, quando gli artisti si liberano dalla tavolozza in senso positivo, non negativo, ma imparano a usare molti altri strumenti ed elementi e usano il tessile, sia lavorandolo al telaio o, come si dice, ovlume. Gli artisti, abbiamo qui degli esempi, indagano il passato, lo recuperano perché se il passato dorme, non vive, rimane sotto la polvere del tempo. Grazie.